Sindaco, come ha accolto le dimissioni dei tre assessori? Come ha accolto le loro dimissioni? Le ho accettate, non condividendo tutto quello che sta accadendo ovviamente, a partire dalla richiesta del gruppo di Futuroin e di Paolo Gatti di mettermi subito per l'approvazione del bilancio. Ho visto i tre assessori in grande difficoltà, ho apprezzato molto il fatto che sono comunque venuti da me a parlarmi di questo loro disagio, se vogliamo, perché questo è quello che mi hanno detto e che tra l'altro mi hanno trasmesso. Ma quali motivazioni le hanno dato? Le motivazioni lascio nel tempo che trovano quello che io ho apprezzato e lo stato d'animo, il rispetto, ma anche il rapporto. umano che si è instaurato in questi anni e che non cambierà per quando mi riguarda anche nel futuro, perché sono persone che hanno collaborato con me, alcuni da tanti anni, alcuni da pochi mesi, ma che comunque hanno dato un loro contributo a questa città. L'amministrazione va avanti, va avanti con cinque assessori qui sottoscritto. Tra l'altro è proprio di questa mattina la notizia che il bilancio di previsione e il consultivo sono prorogati dal Governo al 31-12-2017, per cui di fatto il Consiglio per il bilancio viene a questo punto posticipato alla fine dell'anno. Probabilmente c'è Paolo Gatti dietro tutto questo. Qual è secondo lei il suo progetto? Questa è una domanda che non dovete fare a me, dovete fare a Paolo Gatti. Abbiamo due modi diversi di vedere la situazione. Io non sono assolutamente d'accordo con Paolo Gatti che stiamo amministrando male, anzi, è esattamente l'opposto. Io credo che tra mille difficoltà stiamo amministrando bene. Con grandi difficoltà ovviamente che hanno tutti i comuni. Per me il commissario è una iattura, mentre Paolo Gatti non la vede così. Sono punti di vista diversi politici e per questo che io resto al mio posto, mentre Paolo Gatti mi chiede di dimettermi. Siete tradito? Guarda, è tradito una parola forte. Questo è un giudizio che non voglio dare io, un giudizio che daranno i cittadini terramani, perché loro sono i nostri unici giudici. Questo non lo dobbiamo dimenticare mai. Chi ci giudicherà in politica, ma anche nella quotidianità, sono i cittadini, sono le persone che incontriamo quotidianamente per strada e che a me piace guardare negli occhi, perché io sono fatto così. Sono un passionale, sono una persona che crede in quello che fa, io ci credo. Il sindaco lo faccio per passione e quindi per questo motivo, per questo motivo e per tanti altri, anche molto più importanti, io resto al mio posto. Lei questa mattina ha messo un post su Facebook, dai nemici Mi Guardi Dio, che dagli amici Mi Guardo Io. A chi era rivolto? A nessuno. È uno dei detti più famosi che esistono da quando esiste il mondo. C'è come ce ne sono altri. Però proprio questa mattina? La mattina quando uno si sveglia degli stati d'anomo, stamattina il mio stati d'anomo mi diceva questo e ho messo questo post.